Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. Manca poco al termine ufficiale dell'estate. L'autunno prenderà il posto della bella stagione domani, 22 settembre, precisamente alle 14.21. E se anche il maltempo ha anticipato di qualche giorno l'arrivo dell'aria fresca e delle piogge, nel comune marcianese la comparsa dei primi ricci sui castagni fa respirare aria d'autunno già da qualche settimana. Gli alberi sembrano tornare al loro originario splendore dopo i continui trattamenti per scongiurare ed eliminare definitivamente il cinipide, il parassita a causa della caduta prematura del riccio e quindi della perdita di maggior parte del prodotto. La lotta è stata continua in questi anni, a partire dal 2013, e adesso il sindaco Anna Bulgaresi ci fa il punto della situazione. La battaglia al cinipide sta dando i suoi primi frutti, ora quest'anno dovremmo scontare questa siccità che c'è stata durante tutta l'estate, quindi i castagni soffrono soprattutto per quello, ma un po' tutta la vegetazione, quindi dovremo capire quali saranno i frutti che daranno quest'anno. Per quanto riguarda invece il cinipide, la lotta è cominciata nel 2013, quando a fronte di questo animaletto che stava distruggendo tutti i nostri castagni, abbiamo avuto una prima conferenza di servizi fatta da comune, parco, regione, università e quant'altro, e quindi è stato previsto i primi lanci dell'antagonista già a maggio. Questi lanci sono stati fatti, i primi subito a maggio del 2014, perché questa conferenza si fece a ottobre del 2013, anche perché c'era una tempistica da rispettare. A maggio abbiamo fatto il primo lancio e successivamente c'è stata la collaborazione sempre continua con l'Università di Firenze per quanto riguarda appunto il monitoraggio di questo antagonista, abbiamo visto e unito anche alla cura proprio dei castagni. In questo devo ringraziare sentitamente l'associazione Pedalta, che è nata in corso d'opera, ma che sta ancora curando in maniera puntuale i castagni e monitorandoli. Quest'anno sono stati fatti altri lanci dell'antagonista, quindi possiamo dire, visto il risultato l'anno scorso d'autunno e non c'era stato l'ulteriore incremento di lanci. Quest'anno è stato rifatto, mi sembra, aprile-maggio di nuovo in collaborazione con l'associazione anche del castagno e è stato fatto altri lanci, quindi speriamo nel giro di poco di avere solo un brutto ricordo di questo cinipide. E ripeto, in questo caso si è visto l'amore dei marcianesi per i loro castagni, perché si sono associati, si sono uniti, hanno cercato collaborazione anche esterne, hanno imparato a curarli attraverso anche le potature e quindi hanno apportato sicuramente un contributo notevole. Speriamo che si possa continuare dove non arrivano purtroppo poi le istituzioni che continui questo associazionismo e questo volontariato.